Un nuovo incendio in un'azienda che tratta rifiuti speciali. Anche questa notte Battipaglia è stata svegliata da una nube tossica di pneumatici che bruciano e dalle prime indagini sul luogo l'incendio sembrerebbe doloso. Ad intervenire la sindaca Cecilia Francese, che ha scritto al prefetto di Salerno e ha chiesto la convocazione di un comitato per l'ordine invitando anche il governatore De Luca per essere presente. Ho immediatamente allertato l'ARPAC che ha risposto con l'installazione di una centralina per il monitoraggio dell'aria nelle prossime ore e non appena i dati verranno resi disponibili dai tecnici. Informerò immediatamente circa i risultati dei test. L'azienda si occupa di recuperare pneumatici in disuso, tritarli e rivendere il materiale lavorato. Proprio due giorni fa questa azienda è stata controllata per il carico di rifiuti speciali gestito. Ricordo che il comune di Battipaia si oppose in conferenza dei servizi regione Campania alla riapertura del sito oltre un anno e mezzo fa, dopo il sequestro da parte della polizia locale, per diverse inosservanze legislative. La società, che all'epoca gestiva il sito, si oppose al provvedimento di sequestro e nell'emore di bonificare l'aria e ripristinare lo stato dei luoghi, la regione autorizzò la riapertura ad un'altra società nonostante l'opposizione del comune di Battipaia. La città è sotto assedio continua francese, un assedio permesso da altri ma che oggi non è più possibile tollerare e sostenere. Il costo da pagare per la mia gente, non solo, anche per i comuni limitrofi, è altissimo e non sono più disposta ad attendere chissà che. Io ho parlato di incendi dolosi già due anni fa, l'ho ridetto ad agosto, poi mi si dice che esagero, però io già ad agosto ho chiesto e richiedo di nuovo di essere ascoltato dal presidente della commissione antimafia, avevo chiesto di essere ascoltato al ministro nel 4 agosto, ho chiesto un protocollo, veramente io voglio ringraziare il prefetto Russo perché come al solito è uno che veramente è vicino, è l'unico a essere attivato già di questo famoso protocollo di intesa con il ministero degli interni per avere un'attenzione come la terra dei fuochi perché sono troppi roghi in quest'area, quindi vogliamo capire che cosa c'è sotto perché queste azioni di rogo vengono interessate soprattutto questo territorio, ma abbiamo visto anche a Parapoti quello che succede, voglio dire c'è qualcosa che non mi torna, ci siamo sentiti poco fa con il signor prefetto, ho chiesto un tavolo del comitato per la sicurezza e per l'ordine pubblico, aspettiamo questo tavolo però il sindaco di Battivagli è stufo perché ve l'ha chiesto con tutte le regole e con tutte le procedure che un sindaco deve fare con atti amministrativi, siccome qui pochi ascoltano, mo la finiamo con gli atti amministrativi, sto andando al comune, c'è una riunione con la mia maggioranza e con la giunta e decidiamo che cosa dobbiamo fare, passiamo ad atti molto più clamorosi, forse così si può richiamare l'attenzione su questo territorio.